Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri canali, io sono Manpissing, oggi vi faccio vedere i video, oggi i tv dimostrativi varie, ciò che ora è questo e quello, ora cominciamo la free series di Cello Sicchia Italiana. Questo indica una persona o una cosa vicina a chi parla. Questo indica una persona o una cosa che si parla, ciò che si parla, ciò che si parla, ciò che si parla, Chile plurale, femminile plurale. Questi, queste, questi libri, queste case, ahakar. Quello indica una persona o una cosa lontano da chi parla e da chi ascolta. Quello si usa come articolo indeterminativo. Quello è l'articolo indeterminativo che si usa. Oggi si usa quello del gruppo. Maschile, femminile, singolare e plurale. Il libro. Quello libro. Lo zaino. L'amico. Quello amico. E si che maschile e singolare. Femminile e singolare. La penna. Penna. Quella penna o penna. Sono maschile plurale. I libri. Quei libri o capi. Gli zaino, bag. Quei zaino, bag. I quem è il Beispiel. L'amico, amici. quei amici oho d'oste differente appena last group femminile plurale le penne matal pen quelle penne oho pen athi che gido appa che ci di gallegarde udho appa singolare uscarnama giudoggiada di udho plurale te maschile giudho appa male ci di gallegarde femminile ci di ditta che penna female branda penna singolare penne giada plurale trova gli aggettivi contrari e scrivili al posto giusto di chi sono queste scarpe chi dne ehe but questo nun queste bratta quelle scarpe lì sono mie but merea ovale ti apaga al carrente appa quelle parà vorrei vedere quella camminile camicia nera in vetrina per favore mi dicono a chanama ovari camicia sciscece plis mi piacciono molto quei pantaloni che vanno di moda adesso e ti hanno detto se non quello te pantaloni che già da di chi è di chi è Oggi vado in quella agenzia per cercare lavoro. Questo cappello è di Carmen, ma quelli guanti sono di Ugo. Questa sera andiamo a vedere un film al cinema in centro. Questo film è molto bello. Il film è molto sogno. Il peso è un po' percorso. Il film è di un 80 grammi. book. 9 grammi. 10 grammi e 500 grammi. Il film è di una quentes sopra 50 grammi. 30 grammi e 500 grammi. grazie a tutti un quino due quino da cake Sirka, pane, olio, vino, vino, uova, ande, pesce, macchi, carne, meat, formaggio, cheese, pasta, pasta, sale, loon. Fruita, cocomero, hadwana, meela, save, limone, nimbu, fragula, strawberry, pera, nashpati, uva, anugur, pesca, aadu, arancha, santra, chileja, cherry, albicocca, apricot, banana, banana, kella, soji vaaddiyaan saojiyaanval, verdura, pomodoro, tomato, zucca, kaddu, karota, gajar, zucchini, zucchini, pepperoni, shimlamirch, fajoli, fadiyan, alio, lasan, patata, alu, chipola, piyaj, milansana, benggan, te fungo, khumba, soji e khaan piniwaalean chijjaasi, jedi yaan asi aam torte roji vaart deyaan, vaaddiyaan agge, in italia si manja cosi, nahi menu deli italiani jenerecci sono, italyc idda khanneya, italyan de menu vec kiki hundava, apapa oddevaare gal karanghe, antipasto, piccoli, assajji, wari, kei nitsanuri pasto, soji antipasto hundavaa shuruwaat, cio shoti mohdi chijja khanu jedi yaan mil diyaan, firan da primo piyato, matal pali plate, oddeva chapa kiki meri sakdavaa, pasta, rizo, mie, nestrone di verdure, usto baaccio andiya secondo, secondos apano meat, carne, pesce, formaggi, uova, te firan di contorno, jedi chosa gada insalata, verdura, jia patate, tina di nana al frutta, fir baccio dolce, te end te kafe, shuruwaat antipasto na, shoti mohdi chijja khanu, fir primo piyato, ti secondo piyato, hundi jena parajjana hundavaa, te contorno hundava jera malo insalata jaya ho gaya, jia verdura, ush nal khanu menchi jade, firan da frutta, jia dolce, te end te italian joh me shai pindiya unne kafe, odde na hai khatam kar deya, thonu ek example kar dena, jito apana india restaurants khanu jane ya, phele ek antipasto aandavaa, jicche kushe papad vaagara dindene, pher primo piyato aandavaa, jicche apana meat lene ya, secondo cha apani ho ghi roti, sabji, te contorno shu insalata hundavaa, te end te apana frutta, jia dolce, jia milk shake vaagara ho pindene ya, so jia aaj dhe video vich chinn nahi, umeed karada samusara nisamjhe laggi hovegi, video like to share jurao kareo, jia channel subscribe niki tadja jurao kareo, milanke kisi hove video vich tata clear ab rakhhaan. Intro Right Grazie a tutti.